Fine settimana di alcol e caos nel centro storico Aretino, tra scontri tra giovanissimi e segnalazioni per ubriachezza molesta. Dopo un periodo di chiusura come è stato quello del lockdown che purtroppo è durato troppo a lungo, c'è stata questa compressione dell'entusiasmo soprattutto dei giovani che comporta oggi nel momento del rilascio l'eccesso, cosa che non è assolutamente accettabile. L'episodio più grave è avvenuto qui in Piazza del Popolo dove si è acceso un violento scontro tra giovanissimi, alcuni di loro hanno anche riportato delle ferite al volto. Gli agenti della Polizia Municipale Aretina, sempre sabato sera, sono dovuti intervenire in Piazza Grande per convincere le persone a liberare il suolo pubblico e far chiudere così i locali visto che era scattato il coprifuoco. Segnalazioni di degrado poi arrivano nuovamente anche dai residenti di Piazza della Badia e di Via Cavour. Proprio da qui infatti arriva questo scatto nel quale viene immortalato un ragazzo urinare sul portone di questo Bed & Breakfast. Chiediamo più sicurezza, più controlli, le telecamere soprattutto, in quanto la settimana scorsa io stesso sempre al Bed & Breakfast avevo subito il furto di un computer e due ore prima dell'ultimo fatto avevamo chiamato la pattuglia perché c'erano tre ragazzi che stavano facendo una rissa, quindi più controlli assolutamente. Cioè quando si comincia a vedere il sangue per strada vuol dire che la situazione è fuori controllo. Al momento non sono scattate denunce ma ci sono indagini in corso per ricostruire con esattezza alcuni di questi episodi che si sono verificati nelle piazze del cuore cittadino. E quindi mia intenzione è andare a chiedere a Sua Eccellenza il Prefetto se condivide il fatto che l'amministrazione comunale e ci metteremo noi le risorse si doti di polizia privata per il controllo del territorio perché noi non ce la facciamo. So per certo che anche i comandanti provinciali non hanno personale da mettere a disposizione e oggettivamente le forze di polizia devono essere destinate a coloro che commettono reati, non a coloro che sono maleducati. E vuol dire che ci metteremo noi delle forze non di polizia ma di atte a mantenere il decoro cittadino nell'ambito dell'allegria ma non dello sfascio.